Claudio Sardo nel suo editoriale sull'Unità, parlando dell'ex premier, ha detto che lui non vuole vincere ma vuole fare una campagna di interdizione e per questo ha accettato persino un veto dei leghisti contro di lui. È d'accordo con questa analisi? Io ho un'analisi un po' diversa rispetto a Claudio Sardo che conosco da tanto tempo, perché poi alla fine erano giornalisti insieme agli anni Ottanta addirittura. La mia opinione è questa, il PD ha commesso un errore due mesi fa, grave purtroppo. Bersani ha gestito bene il passaggio delle primarie. Ricordiamo che prima delle primarie il PD era al 21% e scendeva come il PDL che si stava liquefacendo. Di fronte a questo Bersani è stato abile nel raccogliere la sfida di Matteo Renzi, cambiando lo statuto, altrimenti lui avrebbe potuto essere il premier disegnato automaticamente. Però a quel punto ha commesso un errore. L'errore è stato quello di pensare, abbiamo già vinto le elezioni rispetto al PDL che sta così giù, quindi ti facciamo fare le primarie chiuse, ti sconfiggiamo. Deve essere il vecchio tronco del partito continuista a minare le danze e ci alleiamo anche con Bendola. Risultato, è vero che ha guadagnato 10 punti con questo processo, ma come avvenne nel 1994 e nel 2006, adesso che andiamo verso il voto la paura inizia di nuovo a dominare il PD, perché Berlusconi si riavvicina e torniamo in un scenario già più volte visto. Se non avessero fatto l'errore di sconfiggere Renzi a tavolino cambiando le regole, credo che noi saremmo direttamente entrati con lo scenario di Terza Repubblica, perché a quel punto intorno a Renzi, non solo noi che eravamo già d'accordo, ma pezzi fondamentali del mondo cattolico, di tutto il mondo riformista, si sarebbero immediatamente seduti a un tavolo, non ci sarebbe stata la ricandidatura di Berlusconi, l'ha detto lui, non è un'ipotesi, e non ci sarebbe stata neanche l'agenda Monti, avremo uno scenario di fronte a noi totalmente diverso, quindi mi dispiace dirlo, la responsabilità dello Stato Maggiore del PD è, ai miei occhi, molto seria e molto forte, perché ci ha restituito di nuovo una campagna elettorale già vista mille volte, anzi sei volte, è la sesta volta in cui di nuovo la storia è con Berlusconi, contro Berlusconi, quando poi di fatto i due schieramenti, vincendo l'uno o l'altro, hanno sempre solo alzato spesa, tasse e debito. Ecco, questo è un errore che secondo me il PD farebbe bene a rifletterci, perché hanno avuto una carta che cambiava non solo l'identità di governo della sinistra, ma era un'occasione per tutto il Paese di ridefinire l'offerta politica, era davvero un passo verso la Terza Repubblica, e quindi da questo punto di vista non posso essere d'accordo con Sardo, e voglio sottolineare perché appunto noi siamo delusi dal PD, e facciamo anche un appello agli elettori renziani delusi, per così dire, c'è un futuro da costruire dopo, perché se dovesse finire di nuovo con un Senato zoppo appeso a 5, 6, 6, con magari qualcuno che inizia a firmare assegni per farli comprare di qua e di là, c'è l'ipoti e così via. Perché poi il rischio è l'ingovernabilità di chiunque vinca. Ecco, è l'ingovernabilità. Quindi ci troveremmo, spero, cambiando presto la legge elettorale, a dover rivotare presto, e quindi c'è un pezzo di strada da ricominciare a costruire e nel PD è meglio che ci riflettano. Ecco, rimanendo sul PD, Bersani ha promesso, inserendosi nel suo alco delle promesse degli ultimi giorni, 10 miliardi per 5 anni per pagare il debito della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, specificando che la liquidità necessaria sarà trovata, emettendo titoli del tesoro vincolati a questo fine. Le sembra una buona idea, un'idea percorribile? Dunque, è una buona idea che qualcuno si renda conto finalmente, dopo che per anni hanno tutto chiuso gli occhi, sul fatto che è uno scandalo inammissibile, che lo Stato pretenda che i privati si paghino tra loro a 30 giorni, recependo la direttiva comunitaria, peccato che però lo Stato, ai suoi creditori, cioè ai fornitori che hanno creduto nella parola dello Stato e hanno lavorato per lui, ci sono circa 70 miliardi di debiti commerciali che lo Stato non paga. E dice, io non c'ho neanche la contabilità, dimostrami tu che ti devo qualcosa. E in alcune regioni se ne parla dopo due anni, due anni e mezzo. E per fortuna qualcuno si rende conto che uno Stato così asimmetrico è un'autocrazia, non è una democrazia. Perde proprio il senso di essere il fondamento etico. Questo dovrebbe essere lo Stato. Dovrebbe dire che le leggi sono uguali per tutti, c'è scritto in ogni aula dei tribunali. Beh, a cominciare dallo Stato dovrebbe essere, invece non è così. Però dopo questo riconoscimento, la mia obiezione è che dire ci pensiamo cinque anni, siamo sempre lì, dateci anche a noi cinque anni per pagare le tasse allora. No, e siccome non ce le danno, perché ogni secondo scatta la sanzione, oltre la soglia in cui devi mandare la tua dichiarazione, il tuo F24 e così via. Allora io dico, c'è un'altra modalità tecnicamente possibile con la quale mettere in pagamento in tempi molto più rapidi il debito commerciale, perché quei 70 miliardi messi nelle condizioni dell'economia italiana, 70 miliardi di liquidità, possono cambiare le aspettative e la fiducia della liquidità da così a così. Qual è quest'altro metodo? Non quello di titoli del debito pubblico, quello di utilizzare la liquidità e gli attivi di cassa, depositi e prestiti, che lo ricordo a chi ci ascolta, è la più diffusa rete di raccolta del risparmio, quello postale e così via, per metterli in pagamento, di usare gli attivi a garanzia delle banche che anticipino direttamente i pagamenti e la garanzia di questo sta negli attivi che sono di circa 200 miliardi di cassa, depositi e prestiti. Perché non fare così? Perché la politica preferisce invece cassa, depositi e prestiti utilizzarla per ricomprare aziende allo Stato, pezzi di Eni, pezzi di Snam, c'è chi pensa di utilizzarla per entrare il capitale della Fiat, per ricomprare due pezzi di fine meccanica, invece che comprare altre cose allo Stato, che lo Stato non sa gestire, utilizziamola per pagare molto più rapidamente i debiti ai creditori dello Stato che muoiono nel frattempo.